Ciao, presentatevi. Ciao, sono Pietro. Ciao, sono Michela. Di cosa ci volete parlare? Vi parliamo di Apri, accogliere, proteggere, promuovere, integrare. Un progetto di Caritas italiana finalizzata a creare migliori condizioni di integrazione per i migranti, rafforzando il loro percorso di autonomia. Nello specifico? Siamo famiglia tutor di un ragazzo del Senegal di 29 anni. Oggi lui ha un lavoro. Aveva un lavoro. Ha la patente e l'auto. Aveva la patente ed è ben inserito nella nostra comunità. I prossimi passi saranno quelli di una stabilizzazione nel mondo del lavoro e la ricerca di una casa per raggiungere la completa indipendenza. Come siete stati coinvolti in questo progetto? Ho proposto il progetto Apri perché è iniziato che ero ancora il direttore della Caritas e quindi volevo proprio provare in parrocchia a far vivere questa esperienza che è il modo migliore per accogliere le persone, farle incontrare, far vedere che si può stare con queste persone, aiutare loro e aiutare noi facendo questo. Un aggettivo per descrivere questa esperienza? Inaspettata. Molto coinvolgente. Ma da 1 a 10 quanto consigliereste ad altre famiglie questa esperienza? 100. 100. A proposito, lui è Saiba Sissoko. In questo video abbiamo scherzato un po', ma di questa esperienza ricorderemo sempre Saiba, tutte le meravigliose persone conosciute in questa occasione e l'intero progetto Apri, che per noi ora significa amici per rafforzare l'integrazione. Salutatevi. Ciao papà, ciao Sissoko. Ciao a tutti, sono Sissoko Saiba, vengo dal Senegal. Ciao Michela, ciao Sissoko e forza! Forza Inter!